Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, siamo tornati qui con la carriera allenatore di FIFA 22, con questa subito schermata con Ansu Fati al Chelsea, bello acquisto, bello acquisto, mi piace, mi piace. Allora io in off camera ho proposto la mia offerta per Haaland, non sono voluto andare oltre i 150 milioni, ma l'hanno rifiutata e allora io ho selezionato un nuovo nome tra quelli che avevo inserito, ovvero Julian Alvarez del Manchester City argentino, 23 anni, quindi ancora giovane, bello schillato, diri di precisione, affonda i contrasti, a classe, tiro da fuori, regista addirittura e quindi vorrei andare a prendere lui come attaccante titolare, penso sia il giusto sostituto di Raspatori. Ha l'ingaggio un po' altino, vediamo se con il ragazzo di prendere riusciamo, dai, perché con tutti questi soldi, pure che mi chiedessero il massimo, 97 si possono pagare, vediamo l'ingaggio, perché comunque non è che siamo una società ricchissima, 150 mila settimana sono tanti, vediamo un po', non è che ce lo cedono in prestito, no, faccio il colpaccio, no, 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 lo sapevo, vabbè, andiamo, tentativo d'acquisto, facciamo 60, dai, chiudiamo a 60 milioni per questo ragazzo, hanno bisogno del tempo, ok, accettata l'offerta per Alvarez, molto bene, 60 milioni, praticamente ce ne intaschiamo 200 così, però ora bisognerà fare il contratto sperando che non si incazzi il ragazzo, ma sa che sta avvenendo a Sassuolo, eh, Sassuolo non è in Manchester City, accettiamo di non inserire alcuna clausola, stipendio, dai, se l'è abbassato, se l'è abbassato, però rimuoviamo il bonus presenze, il bonus ingaggio è un po' altino, però vabbè, se accetti così te lo rimango così, ok, 92 mila a settimana è comunque un bello stipendio, però se l'è abbassato di abbastanza, è abbastanza, quindi benvenuto Julian Alvarez, che sarà l'attaccante titolare su cui punteremo, nuovo per Ronaldo, voglio provare, voglio regalare questo colpo alla piazza e presto non me lo danno, Ronaldo che vuole andare via dallo United, vuole giocare la Champions League, magari lo United in questo gioco la gioca, eh, non saprei, però vediamo così, affidiamoci alla realtà, Ronaldo addirittura al Sassuolo potrebbe arrivare, un colpo del presidente gamer per infiammare la piazza, offerta per il cartellino, 45 milioni, 45 milioni per un 38enne sono tarche, eh, guarda ti metto anche la clausa del 5%, tanto non lo andrò mai a vendere, perché questo magari se fa quest'anno poi si ritira quell'altro a chi lo rivendo, hanno bisogno del tempo quelli dello United, certo Ronaldo Sassuolo venderebbe più magliette, rispetto a Immobile, con tutto il rispetto per Ciro, vediamo, inaccettabile, chiedono ancora 76,8, io mi spingerò massimo fino, niente, salta l'affare con Ronaldo, non fa niente, 1,60, contattiamo per acquisto, ovviamente non paga i 152 milioni di claus, non so scemo, beh dai accetto, 30 milioni e mezzo, per Immobile è aumentato anche di valore, ora però la parte difficile sarà l'ingaggio, perché 2,40, se li scorda, massimo vediamo uno stipendio da 100 mila, proprio perché sei Immobile, sei comunque un top giocatore italiano, che non va bene nella Nazionale, però nella Lazio, tanto di cappello, vediamo se accetta il turnover, no, un ruolo addirittura cruciale, ma Immobile non sarei tu il titolare, mettitelo, potrei essere il secondo al massimo, biennale ci sto, anche perché ha 33 anni, ma io una clausola, sai che te la farei, una clausola recissoria da 50 milioni, che così se qualche club pazzo me la paga io ci vado a guadagnare, 140 mila però sono un po' tantini, te l'hai abbassato per carità, questo è vero, 100 mila bonus in gaggio volendo te lo potrei anche lasciare, 100, cioè me l'ha mentati? 160 mila, me ne richiedevi 100, no, questo non si chiude, ho capito, non si chiude la trattativa per Immobile, non ci siamo e lo sapevo, e niente allora, salta anche l'affare Immobile, peccato, 30 milioni e l'avevo preso, e invece mi sa che ho fatto una cazzata, perché su FIFA mi porta il valore 23 milioni, se la clausola è di 29, ho fatto una cavolata, perché più o meno potrei anche pagarlo di più, siamo al terzo anno, mi sa che ho fatto una cavolata, ma comunque io ci provo, 25 milioni, non mi ricordavo che valesse così tanto al primo anno sinceramente, e ti offrò anche una clausola del 5% sulla futura rivendita, speriamo, non si è cresciuto troppo, e invece no, voglio un Enrique più 11 milioni, no, questo era meglio se pagavo la clausola, rimuovo scambio giocatori, purtroppo non posso nemmeno rioffrire perché siamo nelle ultime 10 ore di mercato, ti rioffro i 25 milioni, vediamo un po', ah no, aspetta, 28, mi sono allarmato per nulla, mi sono allarmato per nulla, la trattativa si può chiudere, 25 milioni? dai, 25, non dovrebbero arrabbiarsi, e se ho tempo poi per rifare una seconda offerta, se hanno bisogno del tempo, e pago quello che mi chiede, tanto è sempre di sotto della clausola, quindi qualcosino risparmiato, 26,8, ma come sono dir chi, oh, magari se sparsa la voce con 300 milioni di budget, 26,1, dai 25, chiudiamola a 25 milioni per Enzo, 25, tondi tondi, dai vabbè 26, dai, basta, 26 milioni, sembra un'offerta abbastanza equa, e infatti, accetta, quindi arriva l'ultimo acquisto, Enzo Fernandez, e poi tra l'altro, non mi ricordavo che valesse così tanto, perché se no, potevo puntare anche su Svamberg, perché più o meno siamo lì, e mi sarebbe piaciuto avere uno Svamberg in squadra, quindi, cioè, questa sarà l'ultima carriera, la prima e ultima, piutroppo ho iniziato tardi a portarla, spero con FIFA 23 di iniziare subito dal primo ottobre, così almeno avrò più tempo, poi, non portandola tutti i giorni, ovviamente, se l'avessi portata tutti i giorni, ne avrei fatte 3 o 4, secondo me, di carriere. Oh, l'Inter ha acquistato Zienischi, Upamecano e Sané, 3 acquisti, beh, uh, ma io ho una notifica che non mi sono accorto, vabbè, interesse per carriere, ma chi se ne frega, vabbè, quindi finisce ufficialmente il mercato di giugno, di estate, e il gioco mi sa che si è ripagato, no, meno male, meno male, offerta per il trasferimento di Vichini, nata anche è by Monaco, fatta che me la offri a fine mercato per gennaio, quindi ce l'avrei, ma... a che non si muove? nata non si muove. Quindi abbiamo terminato finalmente questo... comunque ho perso video, diciamo, ho perso tempo con due video per fare tutto il caccio mercato, però vabbè, magari, non lo so, questi li metterò nella stessa settimana per recuperare, vediamo un po' e organizzerò io, allora, offerta per il trasferimento di Sommer, ma come l'ho appena acquistato, l'Atalanta mi vuole già soffiare Sommer, 12 milioni di euro, 34 ore, guardate, se fosse stato l'anno prossimo, se è una prossima stagione, avrei potuto anche trattare, chiudere per Sommer, ma assolutamente no, rifiuto, sarà il portiere titolare almeno per quest'anno, poi si vedrà il prossimo, se ci sarà un prossimo, eh, si potrebbe chiudere con questa stagione. Il secondo finale, ah, volevo sapere lui, questo giovanotto del Napoli, quanto... 19 anni, 78, ah, però, io quasi, quasi, questo lo prendo per gennaio come terzo attaccante, hai capito il Napoli, hai trovato un nigeriano, un nuovo nigeriano alla Usimen, praticamente, perché comunque è veloce, 87 da accelerazione, 87 velocità scatto, agilità 87, elevazione 82, becca nella resistenza, ma è giovane però, eh, finalizzazione 83, ma io lo sapete che quasi, quasi, questo sarà il primo acquisto di gennaio, me lo vado a segnare, ci possiamo anche salutare con questa schermata, Milan-Sassuolo, il prossimo, questo Milan-Sassuolo lo vedo un po' troppo spesso, uh, Napoli 2, Piemonte-Calcio 1, quindi per oggi è tutto, dobbiamo togliere subito quel diciannovesimo posto a Sassuolo, che è inguardabile, è inguardabile quel diciannovesimo posto, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, attivate la campanella per non perdere i prossimi video, bye! ciao a tutti! aż aah